Vi ricordate il video di Cicalone e il suo staff che buttano di peso i borseggiatori della metro di Roma? Ebbene ci sono altri filmati brevissimi di altre angolazioni dove si vede appunto gli uomini di Cicalone che lavorano con lui, questa sorta di pulizia tra virgolette delle metro, questa vigilanza volontaria nelle metro di Roma, prendere appunto di peso e con estrema violenza buttare fuori i borseggiatori. Si è aperto una polemica e si è alzato un polverone, guardate il video. Ma voi ragazzi iscrivetevi, siete sempre più numerosi a guardare il canale, ma ancora pochi. È gratis, fatelo, ci date un'aiuto enorme. Non scendi, non scendi, non scendi, bravo, bravo. bravo grazie